Tommaso, ce l'abbiamo fatta, parteciperemo alle Olimpiadi di Londra. Papà, io voglio fare le frate. Non se farà frate. Perché? Perché deve fare le Olimpiadi. Ave Maria. Io penso che sia sempre più importante trovare nuove forme di comunicazione. Paolini no! C'è anche blues, pop, rap. Paolini smetta! Ho vinto tante di quelle medaglie, ma la più importante non l'ho mai nemmeno sfiorata. Nell'impiedi, sei davanti all'idea del secolo. La Nazionale Olimpica del Vaticano. Non mai così vai a Lourdes. È il grandissimo campione Mario Guarrazzi che sarà il responsabile tecnico. Sarebbe un'esperienza mediatica straordinaria. Quanti anni ha lei? 45, perché? Lo faccio un po' di sport. Per forza così aderente? Ma come? Ho preso la XXL. Ma rimorzazzi l'ostra, ma chi cazzo? Noi andremo alle Olimpiadi a qualunque costo. Bravo, grande, paga, io non ho più per cu... Eminenza, tecnica motivazionale. Occorre mettere insieme una decina di atleti. Ce ne sono! Soltanto che sono sparsi un po' per il mondo. Quello è Frate Torval, la nostra ambulanza. Lo buttamoselo dietro. Ma che gli togliamo l'ambulanza? Ma che te sei drogato? Siamo in Columbia, basta l'aria. Per arrivare al cuore degli uomini bisogna attraversare strade impervie ed impensate.